Clement, il tentotenne ganese che da alcune settimane giaceva in preda al freddo e alla pioggia, su una panchina di piazzetta Perugini, da sabato scorso ha trovato riparo presso la casa di riposo Rubilli di San Tommaso. Molti cittadini che si erano preoccupati dello stato di salute di Clement, aiutandolo a fronteggiare gelo e fame con coperte e pasti caldi. E tentotenne tra l'altro ha gravi problemi alla vista. A tendere una mano all'uomo anche Dimitri Mecca e Letizia Monaco, che hanno allertato il sindaco Feste, il vicepresidente dei Rubilli, Petruziello. È stato accolto, si è fatto una doccia calda, abbiamo parlato con la cucina per farlo mangiare. E quindi come sempre, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, anche quest'anno il Rubilli ha aperto le proprie porte. Adesso, a mio avviso, c'è bisogno che venga preso in cura dai servizi sociali. Poco fa il presidente ha parlato col sindaco, il sindaco si è impegnato in prima persona. In giornata dovrebbe venire l'assistente sociale, perché a mio avviso ha bisogno di essere portato in ospedale per una visita, per vedere, perché lo vedo molto proprio per le cose che tu dicevi, dormire sempre a radiaccio fuori, insomma è provato. E poi noi abbiamo anche un problema di coabitazione con i nostri vecchietti, però lui è stato accolto dal personale, come sempre, voglio dire. Quindi il problema che avevamo posto era un problema solo di averlo attraverso il comune, proprio perché c'era bisogno dell'assistenza sociale. Per gli altri problemi, la nostra struttura è a disposizione, oltretutto col comune abbiamo una convenzione, c'è stato l'interessamento del sindaco già dalla sera in cui tu hai segnalato la cosa e quindi questo è positivo. La prima cosa è l'umanità, quindi che noi, proprio questo si abbassi di tutti quanti noi, l'umanità che abbiamo, se no non c'è la carità e l'umanità, penso, per andare avanti. L'avete rifosillato? Sì, 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 è una bella doccia calda, siamo andati subito, io sono andata nel deposito a prendergli la roba pulita di lana calda, la custodia è andata a casa sua a prendergli qualcosa da mangiare, comunque era tardi, la cucina era ancora chiusa, penso che l'abbiamo accolto proprio come un figlio, proprio perché fa male il cuore a vedere queste persone che stanno sulle panchine notte e giorno.